Allora Rick, sia affascinante, ma non troppo affascinante. Come chiedere a Superman di non essere troppo super. Perché? Che problema c'è? Nessuno, tranne quando testimoni in un processo per omicidio. Essere affascinante dice alla giuria che sei sicuro di te, ma esserlo troppo dice che stai cercando di manipolarla. Oh, capisco. Per questo non mi fai mai testimoniare in nessuno dei nostri casi. Sei invidiosa del mio charme. Sono seria, ok? Non fare l'arrogante. È la prima volta che testimoni in tribunale. Può essere snervante. Andrà bene, soprattutto perché si dice in giro che l'avvocato della difesa sia un dilettante. Ah sì? Chi è? Stan Novak. Stan, soglia d'attenzione limitata. Quello si perde nei suoi stessi controinterrogatori. Sì, andrà bene. Peccato che non mi vedrai in azione. Ma io ci sarò. È una cosa saggia. Insomma, non dovremmo essere separati pubblicamente? Ma qui parliamo del processo per omicidio di Sadie Bickman. I suoi reportage dall'Iraq hanno determinato il modo di vedere la guerra di molti americani. In più, riuscì ad aprire un suo sito di notizie. E in qualità di capitano del distretto, che ha chiuso il suo caso, sarebbe strano se io non ci fossi. Allora dovremmo concordare un segnale segreto. Una cosa tra di noi che significhi ti amo. Io, sai, credo che sarebbe un po'... Ti serve un fazzoletto? No, è il mio segnale segreto per ti amo. Ti piace? Strofinarti il naso? Sì. Sì, è molto romantico. Comunque, devo incontrare Vickram. Ci vediamo in tribunale. Sì, ti amo anch'io. Sì, ti amo. Sì, ti amo. Sì, ti amo.